Facciamo l'abbraccio raga, vi piacciono no? Allora questo qua penso che è la mia nuova proprio acconciatura E sono tipo rossana, rossana dai pensaci, oppure Harley Quinn non lo so Harley Quinn però c'è la biondi con i cosi celesti rosa, comunque la mia nuova acconciatura Facciamo l'abbraccio stasera Ora faccio un po' di melanzane grigliate, sono già grigliate, le metto in padella sensoriale e faccio grigliate Video di 10 minuti quindi mi dovete sopportare, intanto prendiamo la padella Guardate che bella postazione raga, ora facciamo scaldare la padella e aspettiamo un attimino che si scalda Eccoci Queste raga sono buone anche domani, io le metto qui con un po' di olio, aglio e se ce l'ho il prezzemano Se ce l'ho Ok, così in padella e via Infanto già mi sono fatta, quindi facciamoci Braccio Ci sono le spuntature, le bistecche di collo, le bruschette con la salsiccia E intanto mi sono fatta le unghie, vabbè E poi Non lo so, spiedini Vabbè, aspettiamo che si fanno e poi facciamo la bracciutta Ovviamente ci sono anche gli arancini, oddio E le patatine fritte Arancini e patatine fritte Bruschette con la salsiccia Patatine fritte Spiedini Bistecchine Salsiccia Guarda la salsiccia Patatine e arancini Ma se sono bruciate Ecco le melanzane, apriamo Tutte le varie salse Ok raga, assaggiamo queste melanzanine come sono venute Dentro sono messo l'aio, il prossimo E il soffitto E l'olio Buone Pollo e pancetta Bruschette con la salsiccia Spuntaturina Ok raga, assaggiamo Allora Spuntatura Comunque le spuntature sulla brace Buonissime Assaggiamo questo arancino No, ma se bruciate Ma che c'è l'inanzanino? I piselli? No Guarda E' strano Questo Io ero andata per mozzigliare Lo sapete su qui Strano Un po' buono C'è qualcosa in mezzo ai denti Con lunghegna faccio la roschetta con melanzana Queste melanzane E' buonissime Buona Pancetta raga C'è le spezie sopra Tipo Per cosa arrosto Sì, quelle pancette Le spezie per esempio Sono odiose Proprio 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 Allora raga Se mi dite che voi patatine mangiate così A casa siete buciardi Perché io so che tutti quanti i patatine Si mangiano così E lo so che lo fate Pure voi Forse Al primo appuntamento Ve li mangiate tipo una per una Ma poi Non c'è che più Ce l'ha in bocca E' più so buone Ok raga Adesso il dolce Il babà Non l'ho mai assaggiato in vita mia Ora l'assaggiamo Poi c'è Ecco la gola Zero ovviamente Di sempre Abbiamo preso Questo dolce Al pistacchio E Cioccolato bianco Questo al limone Adesso l'assaggiamo Tutto che mi hai mangiato un babà No Non neanche L'assaggiamo C'è troppo al corico Non mi piace Tanto Sorge No Beh Cioè se mangio questo Dopo non puoi guidare No No Veramente Sì e no Tipo Un muzzico di cimino Un po' Però è buono Il babà non l'ho mai assaggiato Però è buono Ma il babà è napoletano o siciliano? Un po' Troppo troppo Alcolico Ora raga Assaggiamo Il cioccolato bianco E Mamma mia Che profumo Questo Mettiamo a mezzo Babà Non l'ho finito Ok Assaggiamo Questo al cioccolato bianco Ecco il pistacchio Però questo è più buono Questo è più buono Mi piace questo babà rumo Ora il king ci ha ripensato E ha detto no no Ciao È buono? Sì Il king ci ha ripensato Il mio eccolo Ha detto no raga Adesso che pensi Puoi guidare Se non mangi tutto? No Puoi Anche noi non usciamo Assaggiamo il dessert Al limone Dessert Io amo le cose al limone raga Comunque c'è raga Mi sono ingrossata da morir Sembra una mongolfiera Poi prendo il volo Questo è quanto Non abbiamo assaggiato Non me lo richiudo Ok Assaggiamo È proprio limonoso Vero? Aspetta Tiè Questa gnola Allora Qual è il tuo preferito? Questo Vodiamo babà Io vodo tipo 3-4 Zero Zero? Non ti pida troppo alcolico Questo al pistacchio Io ogni volta che leggo Cioccolato bianco Io penso al galak E non c'è il galak Quindi do 5 Limone? 9-10 10 10 Oh Fintro Mmm Questo al limone Basta Tu non ce va più? Basta Basta Il king Quando il king mi dice basta Mi devo fermare Quindi Io con l'occhio Mi le manierei tutte Eccolo Mi hanno fatto l'abbraccio E ciao raga Non vi dico ci vediamo su IG Ci vediamo su IG Sì Ma non per le calorie Perché Mettere le calorie di questa cena Sarà arrivata tipo a 10.000 calorie Però ogni tanto ci sta E poi sono vacanza Ciao raga